Ciao a tutti, sono appena terminate le prove libere 1 qua all'autodromo di Algarve di Portimao. Alla fine siamo terzi, la prima sessione. Le prove libere sono state abbastanza bene, più che altro oggi cercavamo il feeling con la macchina, cercavamo di fare i più giri possibili per mettere su dati disponibili da studiare per domani, cercavamo di capire il degrado delle gomme, se usare le gomme medie o usare le gomme dure, a seconda del punto del degrado e della performance. Comunque alla fine della giornata siamo molto contenti, abbiamo fatto dei buoni tempi, il passo c'è, le gomme sono molto costanti, la macchina è buona, oggi abbiamo lavorato benamente bene, si prospetta un buon lavoro per un buon weekend, quindi ci sentiamo semmai domani dopo le prove libere 2, prove libere 3, per altri aggiornamenti. Ciao a tutti, ciao!